Benvenuti qui su Delmode, oggi voglio proporrevi un video sull'unboxing e un review sull'Uide Half issue 458 realizzato da GameSoShop e questo è il mese novembre. Questo è davvero pieno di cose, perché c'è questa box che possiamo trovare qui, dove possiamo trovare l'Uide Half e molti contenuti che vi vedo molto presto, che è davvero davvero meraviglioso. Ora possiamo muovere questo e vedere i contenuti dentro. Qui ci sono gli inserti che possiamo trovare. Abbiamo questo, che è su Talisman, quindi è l'opera del progetto, per farvi un po' di investimento e fare registrazione. Quindi può essere abbastanza interessante. Non so se vi consiglio di comprare questo, perché non ho visto questo. In ogni modo, può essere interessato. Quindi, eventualmente, ricordate che dentro di questo video c'è un po' di investimento. In ogni modo, ricordate che se sei interessato, devi solo andare sul sito e fare registrazione che puoi salvare un po' di investimento. Quindi non è male. Quindi ricordate di questo. Poi abbiamo questo, che è una carta che è relativa a un nuovo game per Android e iOS, che è su Warhammer 40k. E qui possiamo trovare la carta del giudizio, quindi può essere interessante. Qui, sotto qui, c'è un codice che non vi vedo perché è il mio, eventualmente. Quindi credo che può essere abbastanza interessante. Quindi qui abbiamo questo, e qui abbiamo altre cose. Quindi possiamo aprire questo piatto di plastica e vedere il contenuto. Qui abbiamo questo, che è una carta su un modello, che è la carta su bugbear e so on, su Carrodon for Warcry. che può essere abbastanza interessante. Quindi eventualmente abbiamo questo. Credo che questo può essere interessante. Qui abbiamo la parola di Bloodball. E questa parola di Bloodball può essere interessante perché è un modo di giocare questo. Sincertamente non spiego Bloodball, anche se colletto le modelli. Quindi può essere abbastanza interessante. In ogni modo, questo è un modo abbastanza interessante. Quindi eventualmente lo hai. Quindi eventualmente ricordate che puoi raggiungere questa carta per Bloodball. Bloodball squadra. Qui abbiamo la statica per Adeptus Titanicus. Che è davvero abbastanza interessante. Quindi può essere abbastanza interessante. Quindi abbiamo anche questo. S-card. Poi abbiamo l'Aeronautica Imperialis. Quindi abbiamo questo modello disponibile. Che può essere abbastanza interessante. Quindi abbiamo anche questo. Credo che per le persone che giocare, può essere abbastanza buono. E poi abbiamo questo, che è per Necromonda. Quindi può essere abbastanza utile anche questo. Quindi eventualmente ricordate che hai un'altra carta di necromonda. E poi abbiamo questo. È double side. In un'altra parte possiamo trovare questo. Questa è una mappa per giocare per la middle earth. Il Lord of the Rings. Quindi può essere abbastanza utile. E dall'altra parte c'è questo poster. Sinceremo. Non c'è quello che ho visto. Non c'è questo. E' abbastanza utile. Quindi può essere abbastanza bella. Anche abbastanza utile. Mi piace davvero. E' abbastanza utile. E' abbastanza utile. Allora, questi sono i contenuti dentro. O meglio. i 3 gifti in questo WDAF, che sono davvero interessanti, perché abbiamo davvero molti opzioni disponibili, quindi credo che questo può essere davvero bello, se siete interessati a alcuni di questi, inoltre i contenuti del WDAF che possiamo vedere ora. E finalmente qui abbiamo il WDAF, dopo tutti gli inserti che abbiamo visto, abbiamo il WDAF, il cover è sulle Tome Keepers, che è un capitolo che abbiamo visto da il WDAF nel WDAF, step by step, ora qui ci sono tutte le regole disponibili, quindi qui è una forma di giocare sulle Tome Keepers, quindi può essere abbastanza interessante, qui abbiamo l'alternativa che vedremo più video, qui il team del WDAF, qui l'introduzione del WDAF e qui qui possiamo trovare i contenuti del WDAF, quindi può essere abbastanza interessante. E qui la lista dei lettori del WDAF, dove possiamo trovare, più di più di più, la parte delle immagini che possono essere abbastanza utile, sui colori, per esempio, le basi e così che puoi modificare, puoi avere un'inspiration per usare così, quindi possono essere abbastanza in questo modo, quindi prendete attenzione sulle immagini, perché possono essere abbastanza buoni da vedere. E poi abbiamo la prima parte di un articolo su Phil Kelly per la storia dell'Ageo Sigma, non la storia di come ha stato creato l'interno dell'Ageo Sigma, ma come ha stato sviluppato l'interno dell'Ageo Sigma, l'Ageo Caos. E poi, nella prossima parte, la parte del WDAF, ci sarà la parte del prossimo step, quindi può essere abbastanza interessante avere una sorta di raccolta di tutto ciò che sta succedendo, quindi può essere abbastanza interessante avere una scelta di tutti gli eventi principali, quindi è abbastanza interessante. qui possiamo iniziare a vedere il game del WDAF 40K, qui possiamo trovare questo, che è un articolo che è relato da Stu Black, che è una comprensione del realismo delle cose, quindi applicate le regole e la forma in cui puoi approfondire, quindi per il modo di avere il modo del game. Sinceremente, non mi piace così un articolo, perché, sinceramente, ok, c'è una forma che puoi essere divertente e così on, ma se vuoi usare le regole, devi usare le regole, puoi mettere qualche idea con i tuoi obiettivi e così on, per fare qualcosa di divertente, no problemi. Ma se vuoi realmente cambiare le cose, è qualcosa che hai per fare un'idea con i tuoi obiettivi, quindi non tutti gli obiettivi sono buoni per fare questo, perché per fare questo devi avere una persona che è aperta, sicuramente non puoi fare questo in un tournament, per esempio, puoi fare questo in occasioni specifici e così on. Quindi, in realtà, questo è un articolo che non capisco molto, perché è qualcosa che non è anche qualcosa che dovresti fare note, perché, davvero, se vuoi giocare, giocare. Se vuoi giocare, giocare. Se vuoi avere un match, devi avere un match. Quindi, ci sono due cose diverse, per l'opinione. Quindi, non provate molto di questo. E poi abbiamo il prossimo punto sul flashpoint. Quindi abbiamo il background che si sviluppa, e si sviluppa molto. molto. Ci sono davvero molte cose che puoi vedere qui, con il nuovo background, che può essere sviluppato anche su questo narrativo. Quindi, può essere davvero semplice. E ci sono davvero molte cose. Quindi, qui puoi avere molti testi su come sviluppare il tuo flashpoint, questo come sviluppare il tuo flashpoint, ma ci sono davvero molte cose che sono davvero semplici sul background. E anche le rules campagne che si sviluppano. Qui puoi trovare molti progressi nel campagne. Quindi, è davvero semplicissimo. E qui ci sono le tom keepers. Quindi, qui abbiamo il background, l'officio, sui tom keepers. Quindi, tutto quello che vi ho visto prima, ora è stato categorizzato, e così via. E l'ho messo qui. Quindi, è davvero semplicissimo. E credo che questo può essere davvero buono. Qui abbiamo anche dei rules, che può essere in. Qui un po' di chroniche sui tom keepers. E qui puoi trovare i modesti testi, i nuovi rules. E qui puoi ricordare che erano uno ufficio. E qui puoi trovare i punti. Quindi, è tutto disponibile. È davvero semplicissimo. E qui, come pittare i tom keepers. Perchè abbiamo anche bisogno di pittare. Quindi, qui ci sono le quali colori. E non possono essere più efficaci di questo. Perchè sono realizzati dal Team of the White Daff. E qui, alcune modifiche. E alcune gallerie. Quindi, può essere abbastanza interessante. E ora un po' di SIGMA. Quindi, questo mitch è davvero semplicissimo. Mi piace molto. Qui possiamo trovare un po' di background su Jacob Bachmannson. Quindi, è un po' di War Cry. Ok. Ma ancora, è davvero semplicissimo. Mi ricordo che c'è la carta di Bachmannson. Quindi, può essere abbastanza interessante. In effetti, abbiamo qui la descrizione. Quindi, è davvero un po' di meraviglioso. Per quello che giocava il War Cry. Non so se è davvero valutato. Ma sicuramente, l'ho presentato abbastanza bene. Perché c'è il background. Quindi, almeno, la forma di farlo disponibile è bella. Quindi, abbiamo un rapporto di SIGMA. Quindi, è abbastanza interessante. Quindi, qui abbiamo molte opzioni. E, in qualche modo, è un nuovo style. Perché abbiamo il scaven contro il Caradon. Quindi, abbiamo due parti tecniche. Una contro l'altro. Quindi, penso che questo può essere abbastanza interessante. Quindi, abbiamo il batter pen qui. E poi abbiamo il batter pen. Io penso che, qui, per capire come giocare una canzone, può essere abbastanza buono. Non mi piace, per esempio, queste basi. Che, ok, sono belle. Ma non vedo le basi. Perché, ok, è snow. Ma sembra più che non finita. Che altro. Almeno, in foto, non è così buono. Quindi, ok. In ogni modo, è un batter pen che suggerisce leggere. Per capire come giocare eventualmente. Perché può essere una buona suggestione. E poi, qui, un articolo sulle nuove luci. Come giocare solo. Quindi, per esempio, c'è questo periodo. che non permette troppo contatti con altre persone. E quindi, per giocare, può essere abbastanza interessante. Quindi, qui ci sono le nuove luci. E penso che possono essere abbastanza interessanti. E, sinceramente, suggerisco a te, almeno, di provare. Perché possono essere buone. Perché ci sono molte opzioni che sono disponibili. Che possono essere abbastanza interessanti. Per giocare e così via. Per provare qualcosa di nuovo. Credo che ci sono molte opzioni disponibili. E, più oltre, potrai eventualmente vedere le immagini. E poi, qui, c'è un articolo su Javid Johnson. Sinceremente, credo che questo è abbastanza utile. Perché, semplicemente, ci sono temi che hanno stato usato bene. E' bene che ci sono, ma sono in mani base. Quindi, non credo che sia una buona cosa. Ma, comunque, ci sono. Se siete interessati a avere un miglior capito di capire. Ci sono. Ok. Sincere, comunque, non vedo un articolo così interessante. Qui c'è un punto di gloria. Che è riguardo a giocare con, in questo caso, Shadspire. Quindi, c'è un modo di giocare con questo. Quindi, in questo caso, abbiamo l'opzione di Piscrave. Con le diverse fasi e così via. Quali suggerimenti di giocare. E poi abbiamo questi wizard duels. C'è un modo di giocare con i wizardi, con l'altro. Con il matrimonio che abbiamo visto prima. Con questo numero. Quindi, può essere usato per giocare con queste regole. in questo caso. Credo che può essere abbastanza interessante di provare. In ogni modo, è qualcosa che è un gioco corto. E può essere usato solo. O, in ogni modo, per provare con un amico o un figlio. Per un modo rapido di giocare. Quindi, può essere un modo molto interessante. Per provare qualcosa di diverso. In ogni modo. In ogni modo. C'è un po' molto interessante. In ogni modo. 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 C'è un po' molto interessante. In ogni modo. 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 Si tratta di versioni di versione. In Altrimenti. In ogni modo. In ogni modo. In ultimamente. per capire se alcun tipo di stile potrebbe essere utile per capire le letture, ma è abbastanza facile. Quindi, questa è la scuola, perché può essere abbastanza interessante. Eventualmente avete, se colete il WEDARF, un libro gratuito, perché avete un libro completo se mettete tutti i 9 mesi. Quindi è una pregnanza, ma una bella. E poi abbiamo l'Elsalvedo Studio, con questo, che vi mostrano alcuni cambiamenti, o alcune cose che vedremo in WEDARF. Quindi può essere abbastanza interessante. Qui vediamo la tenati cover di Tome Keepers, che è la sincrona, ma senza un'immagine. Sincere, vorrei avere la tenati versione, perché è abbastanza interessante. E qui, che saranno rilassati per il prossimo mese. Quindi, il prossimo mese sarà su Spider Fangs. E sono curioso di questi, perché credo che possono essere abbastanza interessante. Per questi modi, ricordi che ho modificato questi modi. In descrizione trovate i miei video, perché ci sono due video su questi. E' una forma di personalizzare e creare qualcosa di diverso, perché può essere usato per altre cose. Inoltre... 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 Inoltre...